Allora ragazzi, super buongiorno a tutto quanto la convività di Spilling Strike, stamattina stiamo andando, sto andando, scusate ma sono abituato sempre che siamo sempre insieme di Alessandro, stamattina non c'è che ho avuto un impegno Sto andando all'Oasi Verde per un'altra volta, dove il 17 febbraio organizzeremo una gara di trottaria e poi a breve uscirà la locandina con tutto quanto il regolamento, il monte premio e tutto E trovate tutto sempre sulle nostre pagine social, quindi Facebook e Instagram Stamattina però ci sto andando per un motivo diverso, ci sto andando perché ieri sono andato a ritirare il regalo di compleanno che mi ha fatto il socio Mi ha regalato una Kira Tournament, un'edizione della Kira, della Nomura da trottaria che poi dopo vi presento nello specifico una volta arrivati al lago E voglio andare a vedere com'è perché sono sincero, è la prima volta che utilizzo una canna Nomura per quanto riguarda il trottaria E per adesso è tutto, ci teletrasportiamo direttamente all'Oasi Verde Allora ragazzi, il teletrasporto ha funzionato, siamo arrivati, siamo all'Oasi Verde E adesso inizieremo questa sessione di pesca, dopo vi presenterò la canna e vi dirò tutto quanto Siamo arrivati adesso, ecco, giornata soleggiata, sta bene, però l'acqua è tanto tanto fredda Il pesce sta proprio in fondo, in fondo, in fondo E adesso proviamo a far vedere qualche cattura 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 Grazie a tutti Allora ragazzi, eccola la tira E adesso proviamo a far vedere qualche cattura E adesso proviamo a far vedere qualche cattura Per la cattura E adesso proviamo a far vedere qualche caccia Calna tirata per pesca con i bottoni e con i micro spoon Adesso ci sto pescando a microspoon, c'è un attimo a gestione del pesce, una volta incannato, manico in eva, splittato, veramente comoda, la mattina al lago trovate apatiche, appiccicata al fondo e diffidenti. Spoon, ragazzi, veramente microscopici, 0,6 grammi. Vedo se lo vedete, eccolo, il pesce torna a casa. Grazie. 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 puntuita.